Avete presente l'audio spaziale? Quell'audio che va destra, sinistra, su, giù, sinistra, giù, destra, robe complicate solo da un paio di cuffie? Ecco adesso Google sta provando a farne uno gratis perché sostanzialmente Google vuole creare dei formati audio che vadano a sostituire in modo gratuito Dolby, Atmos e Vision. Ecco perché per noi sono gratis ma per chi produce cuffie, casse, in realtà sono a pagamento. Sembrerà assurdo ma Dolby addebita un canone a tutti i produttori di hardware che utilizzano la loro tecnologia all'interno dei loro dispositivi. Attualità, informatica, mondo del web. Questo è tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno. Pare secondo protocol che Google stia lavorando a nuovi formati HDR con audio 3D che noi comuni mortali potremo finalmente riconoscere. Il tutto, come dicevo prima, completamente senza canone da parte di Google che ha creato questa cosa e quindi di fatto sarebbe un vantaggio per i produttori. Che ci sta perché giusto per dare qualche numero un produttore all'ingrosso per 50 dollari di merce deve pagare circa 2 dollari a Vision e Dolby per unità. Non totale, proprio per unità se fai 50 euro di cuffie per ogni cuffia devi pagare 2 dollari. Che è una roba. E voi mi direte, ma non è strano? È come se l'audio stereo o l'HD avessero una licenza. Ma in realtà non è proprio così. Andiamo con ordine e cerchiamo di semplificare tutto il più possibile perché qui è veramente contorto. I produttori pagano per usare schemi di codifica di Dolby. Non è così semplice audio stereo ma ci sono letteralmente dei brevetti che permettono di migliorare la tua stereoticità. Ma non è che lo fa solo Dolby, lo fa anche l'audio surround o l'audio spaziale di Apple. Cioè sono sostanzialmente delle porzioni di codice che metti all'interno delle tue cuffioni che permettono di aggiungere e di leggere meglio il formato audio che ti sta arrivando. Anche se Dolby cederla tutta ha un sistema di codifica molto efficiente ed è preferibile sostanzialmente da tutti perché fa quello che deve fare. Lo fa dannatamente bene e si sa commercializzare ancora meglio. Infatti se voi comprate un telefono che ha già Dolby surround avete già il video con Dolby e poi ti fanno la pallina che vola. E tu wow che figata lo fanno anche altri non lo fa solo Dolby. Solo che Dolby ha investito per prima su questo quindi è la migliore. Quindi giusto per tornare in topic Google vuole fornire la sua versione di audio spaziale più video però gradis per i produttori senza canoni da pagare per poter usare quel tipo di tecnologia. Ma perché oltre alla gratuità un produttore dovrebbe affidarsi a Big G per quanto riguarda la decodifica di audio video? YouTube molto semplicemente. Il tubo ad oggi non sopporta né Dolby Atmos né Vision. Quindi avere un servizio analogo ma gratis farebbe comodo. In tutto ciò Google si è già portato avanti e ha già parlato con dei produttori di hardware molto importanti. Tipo Samsung che sulle televisioni non ha il Dolby surround. E poi se hai Android e non un Android di quelli di fascia super mega alta ti sarai accorto che Dolby non è molto adoperato. Ma perché l'ho già detto che costa tantino? Palesemente quindi Google fa leva sulla gratuità ma in realtà è nel suo interesse. Perché questo vorrebbe dire portare le tecnologie dell'audio spaziale, del video migliorato anche su Google a sostanzialmente un prezzo irrisorio. Tutto bello no? Tutto bello. In teoria. Perché alla fine come dicevo prima Dolby è molto brava in quello che fa. E lo fa da praticamente più di vent'anni lavorare sugli audio. Mentre Google no? Cioè sì in realtà sì ma Google ha avuto molto spesso problemi con l'imbastire nuovi progetti. Vedasi Google Glass o vedasi Google Plus. Di solito non succede quando si tratta di codec per tipologie di file. Però comunque un po' di dubbi io me li faccio venire. Quindi giusto per arrivare un po' a cosa potrebbe succedere io mi immagino che YouTube svilupperà i propri codec HDR, audio e verranno utilizzati sostanzialmente solo su YouTube. Ma forse neanche perché comunque ci sarà un altro formato di video HDR oltre a HDR Plus e Dolby Vision. Quindi vuol dire ulteriori codec da implementare per i produttori che fanno cuffiette o casse o telefoni. Solo per YouTube e aumentare la qualità ma non pagando niente? Non lo so. E in tutto ciò YouTube ha già un sistema di miglioramento di video HDR che è il VP9. Quindi nota a margine ma mica tanto a margine. Se parliamo di codec video come HDR10 Plus e Dolby Vision dovete sapere che sono formati per l'archiviazione di metadati dinamici. Cioè fermi non chiudete la puntata. In pratica sono informazioni aggiuntive che possono aiutare i televisori, gli schermi a visualizzare meglio il video stesso. Ad esempio quando acquisti un disco Blu-ray che supporta Dolby Vision il disco contiene diversi file M2TS con video che forniscono metadati per ogni frame. Cioè praticamente ogni singola immagine del video ti dice che colori ci sono e in più ci sono altre informazioni che solo il codec di Dolby Vision può tradurre. Quindi se la tv lo supporta applica questi metadati in più, altrimenti no. E come dicevo, siccome il formato di questi è proprietario, se non hai la licenza e se quindi non paghi il tipo, non riesci a interpretarli in modo corretto. E ho semplificato all'inverosimile perché parlare di codec audio-video è qualcosa di estremamente complesso. Vi lascio un sacco di fonti in descrizione, ma è tostino. Alla fine si parla di Dolby perché Dolby lo usano tutti, perché di fatto è riconosciuto come standard, perché anche nei film, vista la sua efficienza, usano quello. Moltissime, quasi tutte le sale cinema hanno il sistema Dolby Atmos. Tutti i film vengono esportati con questo tipo di sistema, perché ha una qualità elevata e quindi tutti usano quello perché quella è la migliore. E alla fine, se tutti usano quella, funziona, è la best e nessuno ha voglia di cercare sistemi migliori o di provare nuove cose, anche se tu li provassi, saresti l'unico che esporta in YouTube Space Audio, dove nessuno ha quel tipo di sistema, dove nessuna sala cinema ha quel tipo di sistema, dove solo YouTube ha quel tipo di sistema. Però anche lì non tutti magari potrebbero usarlo sui loro smartphone vecchi, quindi sì, ma Dolby Atmos rimane, se devi fare un film, un cortometraggio, una roba. E la cosa che mi amareggia è che in realtà, se dovevi vedere, ci sono davvero nuovi standard, che comunque sono al pari circa di Dolby, ma sono poco calcolati perché appunto, come dicevo prima, c'è Dolby, tutti sono quello, pace. E quindi crearne uno nuovo, così da zero, per Google, mi fa pensare che probabilmente diventerà una risorsa interna e basta. Google con i nuovi progetti ha sempre un rapporto burrascoso, non è mai un matrimonio duraturo, finisce sempre che qualcuno si fa male e spesso quel qualcuno è il progetto che viene chiuso. Una cosa però spero succeda e voglio essere positivo su questo. Magari farà pressione su Dolby, gli tirerà così tanto le palle che magari rilascerà gratuitamente le sue cose più vecchie, che oggettivamente sarebbe una bellissima cosa per tutti. Il vecchio sound surround standard Dolby Digital 5.1 o anche Dolby Digital Plus 5.1 è ancora fottutamente buono, no? È una roba potentissima, quando vedete audio 5.1 considerate che è di più di 20 anni fa. Quindi è pacifico pensare che dovrebbe ormai essere gratuito, visto che comunque le tecnologie di oggi sono molto più avanti. Davvero, questa è l'unica cosa che effettivamente potrebbe succedere di positivo se dovesse crearsi l'alternativa gratuita dell'audio spaziale di Google. Però non lo so. Voi che ne pensate? Esperti di audio? Ho sbagliato qualcosa? Nel caso, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, che comunque non è il mio campo. Poi ho cercato un po' di semplificare tutto il possibile. Tra l'altro, chi mi segue in video avrà visto che ho il canovaccio, proprio perché sono cose che non conosco troppo bene. Per cui, prontissimo a correggere qualcosa o se proprio avessi cazzato malissimo fare un bel video di scuse. Detto questo, io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Mi interesserbbe davvero sapere che ne pensate di questo nuovo progetto di Google, sempre nei commenti o nel gruppo Telegram. E detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno. Grazie a tutti.